Il processo di appello bis della strage di Viareggio è ripreso con la richiesta di condanne da parte dell'accusa. Il PM Salvatore Giannino ha chiesto 6 anni e 9 mesi per Mauro Moretti e 5 anni e 9 mesi per Michele Lia. La loro pena è stata ricalcolata dalla procura, scorporando la parte relativa all'accusa di omicidio colposo plurimo, dichiarata prescritta con sentenza della Cassazione per il venir meno dell'aggravante della violazione delle norme alla sicurezza sul lavoro. Nel primo appello Moretti, che a differenza di quanto fatto in questo procedimento aveva rinunciato alla prescrizione, fu condannato a 7 anni con ferma del primo grado. Il PM ha anche chiesto condanne di 5 anni e 8 mesi per Mario Castaldo, direttore di divisione Cargo 3 in Italia, condannato del primo appello a 6 anni, 3 anni e 9 mesi per Francesco Favo, certificatore per la sicurezza di RFI e 3 anni e 8 mesi per Emilio Maestrini, responsabile dell'Unità Produttiva Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema di Trenitalia. Il Presidente della Corte ha aggiornato il processo a giovedì 5 maggio, quando è prevista la discussione delle parti civili.